Nel tuo libro hai toccato prima di tutto il fatto che l'uomo è assettato d'amore e quando gli manca l'amore fa di tutto per trovarlo e le strade che lo portano a trovare l'amore sono buone e sono cattive, ma alla fine uno potrebbe, nella ricerca dell'amore, potrebbe sia uccidere, ammazzare gli altri, che anche inginocchiarsi e piegare la testa per chiedere il perdono. Sono questi due estremi. Ecco, io in questo momento vorrei chiederti che cosa potresti consigliare ai genitori, prima di tutto, partendo dalla tua esperienza, che cosa dovrebbero evitare nei contatti con i propri figli, per non far passare ai figli le stesse esperienze dolorose che hai vissuto tu. Io non ho una ricetta, io penso, ma questa è stata la mia storia, che a volte qualche sano no mi avrebbe salvato e vedo anche oggi che è difficile dare dei no ai propri figli, perché se io tolgo quella cosa a mio figlio è meno degli altri. Quindi, ecco, qualche sano no. L'altra cosa che consiglio forse è di fare un po' meno il Ponzio Pilato, che cosa voglio dire? Di lavarsi nelle mani dei propri figli. Io non ho una ricetta, non ho una ricetta. Quello che è la mia storia, che avrei voluto, avrei voluto che forse i miei genitori fossero aiutati ad amarmi, così come ero, e non a pensare di costruirmi in un altro modo. Noi spesso, e credo che questo valga per tutti i genitori, vorremmo che i figli fossero come li abbiamo pensati noi, no? Quindi che devono fare questo, quello... No, non è così. Bisogna lasciarli liberi, ma perché liberi ci ha lasciato Dio. Perché Dio, che è amore infinito, è libertà. Io c'è una cosa che dico però sempre ai giovani, e dico questo, che la vera libertà sta in una parola sola. Mi siamo convinti che la libertà sia chissà che cosa. No, la libertà è in una parola sola, è nell'obbedienza. Se noi diventiamo persone capaci di obbedire, saremo persone libere. Sembra una contraddizione, ma non è una contraddizione. Io nel momento in cui ho imparato, perché ho dovuto imparare a obbedire, obbedire, mi sono sentita una persona libera, una persona libera di fare veramente quello che voglio. Prima non ero una persona libera. Prima dipendevo dall'immagine, dipendevo dal potere, dipendevo da quello che pensavano gli altri, dipendevo da un milione di cose. Oggi sono una persona libera. E tu volresti dire che per evitare, diciamo, le tue scelte, bisogna consigli ai giovani di essere obbedienti prima di tutto ai propri genitori. Ai propri genitori, a chi ha la grazia per te in quel momento può essere l'insegnante, può essere l'educatore. Sì. Ok, ma se tu sai obbedire sei una persona libera. So che questo va controcorrente, perché il mondo tutto ti dice tranne che di obbedire. La logica del mondo è tutt'altra. Però è così. E quando uno casca, per esempio, in queste organizzazioni o altre cose, che cosa potresti consigliare a questa persona per darle un po' di conforto? Di chiedere aiuto. Deve avere il coraggio di chiedere aiuto. Perché poi accanto a noi abbiamo le persone giuste al momento giusto. E di solito è quella che c'è più antipatica. Di solito ci aiuta proprio la persona che noi non diamo per scontato. E quando troviamo qualcuno che ci dà troppa ragione, forse c'è qualcosa che non va. L'amico vero è colui che ha il coraggio di dirti la verità, anche quando questa fa, fa male. E quindi mai chiudersi in se stessi, ma cercare di chiedere aiuto. Questo è importante. I sacerdoti che stanno vicino soprattutto ai giovani, come potrebbero valorizzare il tuo libro per aiutare loro a rispondere alle domande, forse, che loro non sono neppure esprimere. Allora, io credo che il libro nasca dal desiderio di dare una speranza. E quindi tu puoi aver fatto qualsiasi cosa nella tua vita, ce la puoi fare. Ce la puoi fare, perché se ce l'ho fatta io ce la può fare, dico chiunque. Il libro nasce anche come strumento per i sacerdoti, di aiuto sicuramente nel dire guardate, esiste un mondo. Io ho visto per esempio alcuni vescovi italiani dove non avevano nominato esorcisti nella loro diocesi, dopo questo libro hanno nominato esorcisti. Esiste il male, esiste il bene. Non è vero che il demonio non esiste. Il demonio esiste. Però attenzione, il demonio esiste, esiste il bene. Valorizziamo un po' più il bene, perché spesso si rischia di parlare spesso del demonio e quindi di dargli anche tanta importanza. Attenzione a quello che sto dicendo. Il demonio esiste, però l'amore di Dio l'ha vinto, perché lui comunque è un povero cretino che ha già perso. E quindi spesso i sacerdoti mi dicono eh ma devi parlarci di più del demonio. No, io vi parlo della misericordia, perché la misericordia di Dio è più importante del demonio, perché la misericordia di Dio l'ha sconfitto. E quindi a questi giovani parliamo della misericordia, parliamo dell'amore, parliamo di un Dio che ci ama così come siamo. Perché al demonio questo non piace sentirlo. amiamo di più i nostri vescovi. Anche questo per me è stato importante nello scrivere questo libro. Forse qui in Polonia non c'è questa realtà, ma tanti esorcisti ho sentito parlare male del proprio vescovo. Dicevo no, assolutamente, perché quel ministero te l'ha dato il vescovo e quella chiesa che tu devi amare. Che tu devi amare. Però per me è importante in questo libro di dire sì, esiste il demonio, esiste il male, esistono le sette. Anni fa Don Amort dichiarò, ma questo era al Ministero degli Interni, 887 sataniche in Italia. Quindi non pochi, ce ne sono. Ma c'è una chiesa che è bellissima, c'è una chiesa che è amore, c'è una chiesa che è misericordia. E allora forse ai sacerdoti dare la possibilità di incontrare questi giovani in quello che loro amano. E non parlare del demonio, ma parlare di un amore, di un amore che è infinito, che è misericordia. Questo. Grazie. 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 Grazie.